Buongiorno, ben ritrovati con l'appuntamento consueto del pomeriggio con Diretta Versilia, appuntamento con l'attualità e l'informazione per darvi gli ultimi aggiornamenti di cronaca della prima parte della giornata, ma anche per commentare insieme ai nostri ospiti i fatti principali del momento. Vado subito a presentarvi l'ospite di oggi, con piacere do il benvenuto, anzi il bentornato a Tommaso Lucchesi, regista. Ciao a tutti, grazie per essere ancora qua con noi perché l'ultima volta che ci siamo visti avevi annunciato i tuoi progetti legati al Carnevale e diciamolo subito legati a Rete Versilia News, a Noi TV, alla nostra produzione e oggi ci aggiorniamo perché ci sono delle belle novità che vogliamo raccontare. Prima però come sempre parto dalla cronaca e quindi dare uno sguardo al nostro sito web, innanzitutto nel rassegno online www.reteversilianews.com. In primo piano c'è l'attesa per domani sera, la fiaccolata in attesa della sentenza. Come avete capito parliamo della strage del 29 giugno 2009 in attesa del mese decisivo, dovrebbe essere gennaio, l'arrivo della sentenza di primo grado. I familiari hanno promosso, familiari delle 32 vittime, questa ennesima fiaccolata, ennesima manifestazione in strada per attirare l'attenzione di tutta la città per stringersi intorno ai familiari delle vittime. Quando siamo, come detto, alla vigilia di una scadenza importantissima, quella che si ritiene la sentenza sul processo. Qua invece siamo, vedete, sulla prima del Tirreno, edizione Versilia, la cronaca nera in primo piano, colpo fallito nella notte da Fantasy Market in via di Montramito. Si tratta di un ennesimo colpo ai danni di questa attività in particolare, in questo caso è andata male ai malviventi. I ladri hanno sfondato la vetrina della porta d'ingresso, ma poi sono dovuti fuggire senza riuscire a portare via niente. E sempre per la cronaca, schianto in via Nicola Pisano a Via Reggio, quattro feriti, il tamponamento è avvenuto nello stesso punto dove fu investita un'anziana. Qua vediamo appunto anche la foto che ci propone il Tirreno anche nella versione online. E infine andiamo su tgregione.it per chiudere questa prima parte di rassegno online con la sicurezza in primo piano a Via Reggio e la Lega Nord che difende l'ordinanza del commissario Stelo, che aveva imposto, ricorderete, il coprifuoco alla stazione e in piazza Dante e presenta una mozione appunto in difesa, vista l'intenzione del sindaco del Ghingaro di rinunciare, non si sa ancora in che tempi, a questa ordinanza che comunque scadrà, ricordiamolo, all'inizio di marzo. E dunque torniamo a noi, Tommaso. Purtroppo, bisogna dire, come avrai visto anche ieri dalla nostra diretta speciale per il mondo del carnevale, è davvero un momento di grave lutto, un anno di lutto potremmo dire, dopo l'addio a Le Bigre, durante l'annata si chiude con il giorno di Natale la scomparsa di Elio Toffanelli, presidentissimo del carnevale. Ieri avrai visto moltissime persone alla cittadella per l'ultimo saluto, un funerale laico, in rito civile, circondato dall'affetto dei carri e circondato dai carri, dai carristi e accompagnato dalle musiche del carnevale. Io partirei dal servizio che racconta come è andata questa cerimonia e poi torniamo in studio. Con Elio Toffanelli scompare un grande personaggio della Versilia, amministratore intelligente dall'entuito politico spiccato, inesausta analista dei problemi locali, dirigente sportivo di razza, ragionatore vero e innamorato del carnevale. Questo è stato Elio fino all'ultimo respiro. Via Regino Doc ereditò dal padre Fernando, straordinario personaggio e compositore di musica carnevalesca, la passione per burlamacco. Elio Toffanelli è deceduto il giorno di Natale, all'età di 79 anni e subito la notizia della sua scomparsa si è diffusa in tutto il territorio. Questo pomeriggio alla cittadella, a rendere omaggio al presidentissimo del carnevale, è stata la città di Via Reggio, con le sue massime istituzioni, colleghi avvocati, maestri della cartapesta e tutti coloro che hanno i coriandoli nel sangue. È stato al vertice della Fondazione Carnevale per dieci anni, dieci anni durante i quali niente è stato dato per scontato. Mi chiedo, cosa resta di un uomo che ha attraversato 80 anni di vita della sua città? Resta l'aver molto e molto intensamente vissuto. Restano le decisioni prese, anche quelle sbagliate, perché capita di sbagliare a chi decide di non stare fermo e si assume la responsabilità delle proprie azioni. Resta comunque l'estro, l'impulso, la fantasia. Davanti a questo Presidente non esistono altri Presidenti. Noi possiamo essere soltanto degli allievi, dei fedeli esecutori di quello che era il suo racconto e la sua storia del Carnevale, della cittadella, della sua tradizione e del suo futuro. Io lo ricordo, è un ricordo che ho bellissimo, nitido, di una persona che per il Carnevale, per la Fondazione avrebbe fatto qualsiasi cosa. È la grande determinazione, il grande amore per questa manifestazione, per la città, nel crederci in tutti i modi, in qualsiasi occasione, sia dal punto di vista televisivo, dal punto di vista mediatico. Con la scomparsa di Elio Tofanelli se ne va davvero il prototipo dell'uomo pubblico nella sua accezione più alta e più nobile. Così è andata la cittadella ieri al momento dei saluti tra parenti e amici. C'erano anche tantissimi carnevalari, c'era anche gran parte del partito che è sempre stato alle spalle davanti a Elio Tofanelli. Tommaso, tu tra poco, siamo qua anche per annunciare questo, lancerai questa settimana una nuova trasmissione che andrà in onda proprio su Rete Versilia e si intitola Sul trono di Burlamacco. Sembra purtroppo quasi cadere a fagiolo, dovremmo dire, perché è una trasmissione che è dedicata ai presidenti della Fondazione Carnevale, a coloro che hanno guidato l'ente di Burlamacco per molto tempo. E proprio quando siamo alla vigilia del lancio di questa trasmissione c'è l'addio a Elio Tofanelli. Tu che cosa ti ha lasciato questo addio, questa scomparsa che in pochi forse si aspettavano perché non tutti conoscevano lo stato di salute di Tofanelli? Il problema è che lo conoscevo io, è lì il punto. Infatti l'idea per questa trasmissione, questa serie, che costerà di nove puntate, intanto lo diciamo, anticipiamo qualcosina, e partirà domenica a Capodanno, quindi comincia il 2017 e noi si parte con Sul trono di Burlamacco. Non è invernale questo progetto, bensì è estivo. Intanto ringrazio anche Lorenzo Bertolucci, Matteo Bertuccelli, insomma lo staff di Rete Versilia per il progetto e per avermelo fatto fare, avermelo concesso, questa opportunità straordinaria. Detto questo io conoscevo lo stato di salute di Tofanelli e volevo regalargli la possibilità, la soddisfazione, la fortuna, se vogliamo, di esprimersi magari un'ultima volta. Lo volevo protagonista di questa serie che, dedicata ai presidenti, racconta la storia del carnevale, del suo carnevale, in quanto Tofanelli è il re carnevale per eccellenza, come anche ieri è stato più volte ribadito al funerale. Conseguentemente la trasmissione già a priori era dedicata a lui, ora sarà dedicata alla sua memoria. Noi andiamo avanti, nonostante questo lutto fondamentale, perché ci capita proprio all'interno delle registrazioni, del work in progress, dell'itinere di questo lavoro, non ci fermiamo, la puntata sarà dedicata ugualmente a Tofanelli, la puntata originariamente incentrata sulla sua presidenza e sarà uno speciale chiaramente che, con già l'approvazione della moglie, con la quale ho parlato ieri, Amelia, sarà tutta dedicata a ciò che ha fatto, a ciò che è stato, agli eventi, alle aneddote, alle curiosità, da parte di chi l'ha amato e chi magari l'ha anche un po' dissacrato. Tu hai detto, lo hai conosciuto, tra l'altro lo avrai incontrato, comunque contattato prima di programmare quella che doveva essere la sua puntata, che persona era secondo te? Ascolta, io non ho conosciuto il presidente Tofanelli, ho conosciuto l'uomo Tofanelli, non posso retoricamente parlarne, idealizzarlo, perché io l'ho conosciuto due ore, in verità, io ho lavorato così con tutti i presidenti, prima di intervistarli in video, ho parlato di persona, andando a casa loro, discutendo con loro la scaletta delle domande, così ho fatto anche con Tofanelli. Con Tofanelli, essendo la serie dedicata a lui, ho messo particolare attenzione, particolare fervore, sono andato da lui tre volte a casa sua in via Rosmina a via Reggio e ho conosciuto, intanto mi ha salutato quasi abbracciandomi, come anche nelle immagini dell'immaginario collettivo, no? Ce l'immaginiamo sempre con le braccia spalancate, con i guantoni, con il fioccone, insomma un personaggio veramente estroso, è veramente carnevalesco più che carnevalaro. Mi ha accolto e mi ha raccontato il suo carnevale, ripeto, il presidente Tofanelli, io l'ho vissuto attraverso ciò che mi ha detto, ciò che ho visto nelle foto, io ho conosciuto la persona Tofanelli, quel giovanile 79enne che mi ha accolto con sua moglie ammobilmente nella sua dimora, nel suo studio e mi ha raccontato tante cose, tanti aneddoti, soprattutto anche il suo legame con la musica, con la carta pesta e l'importanza della cittadella, di valorizzare questo luogo costruito a tempi di record, ricordiamolo perché, e io l'ho ricercato e lo vedrete anche nelle puntate sul tono di Burlamacco, il viaggio di questa costruente cittadella parte negli anni 80, sotto Tofanelli è stata costruita effettivamente, fisicamente, poi si arrivò all'inaugurazione del 2001, bravissimo, 15 anni fa, esattamente 15 anni fa, il 15 dicembre 2001, il trasloco dei carri eccetera, quindi è sotto Tofanelli, è Tofanelli l'autore, l'artefice vero e proprio della cittadella e soprattutto mi ha raccontato un aneddoto bellissimo che io tengo a ricordare se ho un minuto, suo padre Fernando Tofanelli, anche lui carnevalaro storico e presidente del comitato Carnevale dopo la guerra, quindi un personaggio anche lui importante, fondamentale per la manifestazione, ha scritto una canzone nel 28, Carnevale e Banni, che era la sua preferita, ma ce n'è un'altra, risorge ancora più bella del 46, la prima canzone del dopoguerra infatti, composta da Gino Guidi e Cilio Sadun, Tofanelli decenne, quindi aveva 9-10 anni, dopo la guerra nel 46 sentì accanto alla sua abitazione un pianista che componeva una canzone, suonava pianoforte, si avvicinò, era Sadun, che gli disse che le note del tornello di Risorge ancora più bella erano, richiamavano i colpi di cannone che devastarono via Reggio durante il conflitto, questa è storia, queste sono cose da brevidi quasi. E questo tu l'ha ricordato anche lui stesso, un personaggio bisogna dire anche controverso, nel senso che negli anni ha raccolto sicuramente consensi ma anche critiche, insomma è sempre stato al centro dell'attenzione, qualcuno alla fine l'ha definito quasi il padre, padrone del carnevale perché dopo 10 anni il potere ovviamente era assoluto per Tofanelli, era raccolto anche qualche voce magari un po' più fuori dal coro su di lui o non ancora? Generalmente i giudizi sono positivi anche perché chi lo ha conosciuto veramente sapeva che in ottobre e novembre le sue condizioni di salute non erano eccelse, quindi chiaramente ora è idealizzato, è normale, durante la presidenza è stato demonizzato, ma così è, chiaramente è un politico, i politici tutti sono così. Diciamo che qualche critica, comunque sia qualche errore, più che qualche critica l'avrà anche fatto, senz'altro, l'uccellona viene in mente, il famoso scandalo uccellona del 2006, sicuramente è uno dei punti forse più bassi della sua illustre e longeva presidenza. Sicuramente devo ringraziare una persona che Tofanelli quando ci parlai me ne scrisse le qualità illuminanti e la stessa mi ha parlato bene Tofanelli, quindi posso sottolineare questo personaggio che è Arturo De Ambris, il quale durante il periodo in cui ho stirato la scaletta per Tofanelli mi ha aiutato tantissimo per ricercare notizie fondamentali, gli eventi principali e ciò che Tofanelli avrebbe detto se avesse avuto il tempo di intervistarlo, ciò che veramente per Tofanelli era importante non solo riguardo al carnevale, riguardo alla città che amava a Viareggio, riguardo al suo amore vero che coincideva anche con lo sport in qualche misura, anche con la manifestazione in senso lato, lo spettacolo, il senso di fare comunicazione e che studio comunicazione mi rendo conto che Tofanelli è stato un grandissimo comunicatore. Hanno detto il sindaco del Ghingaro, ma anche la presidente Marcucci e anche altre persone intervenute della possibilità di intitolare una strada, una piazza, forse addirittura la cittadella, Elio Tofanelli, tu che ne pensi? Senti, la piazza della cittadella ha un nome, si chiama Piazza Burlamacco, ma nessuno lo sa, in pochi perlomeno. Secondo me il piazza della cittadella, che poi è l'anima, oltre a gli angher che sono dei piccoli cantieri, se si va a vedere, è anche, diciamo, ciò che lo spettatore quando entra in cittadella vede, il piazzale, è il cuore veramente, il centro del magico mondo di Burlamacco-Ondina, come dico nelle mie entrate sulle nuove maschere. Secondo me Piazzale-Tofanelli sarebbe ipoteticamente un onore, un prestigio intitolare, perché avrebbe il suo significato simbolico, ma anche materiale, anche utile. Staremo a vedere che cosa proporranno, di certo ha detto il Sindaco, ci sarà un'intitolazione in qualche misura. Ci dobbiamo fermare per pochi istanti di pausa, tra poco ancora insieme con la seconda parte di Diretta Versilia. Vi aspettiamo. Ben ritrovati, Diretta Versilia, ancora insieme, siamo con il nostro ospite in studio, Tommaso Lucchesi, che nella prima parte ha discusso insieme a noi della scomparsa di Erotofanelli, abbiamo parlato di Carnevale e dunque di questo lutto che ha colpito tutto il mondo che ruota intorno a Burlamacco in questo finire di anno. Però noi vorremmo adesso recuperare il sorriso soprattutto per i carnevalari, perché passato Natale, insomma, manca davvero poco al Carnevale, praticamente potremmo dire un mese, che poi il mese che precede Carnevale per i Via Regini è già in qualche modo Carnevale. Sturete Versilia, a dire il vero, è Carnevale da molto prima, perché è Carnevale dal 27 di novembre, per l'esattezza, quando abbiamo lanciato la tua prima trasmissione, le nuove maschere. Già all'epoca ci avevi spiegato il senso di questa nuova produzione, di questa nuova avventura per te e per noi come televisione, raccontare coloro che erano rimasti forse un po' in disparte, magari a volte lontano dai riflettori principali, ovvero i mascheratisti, quelli che creano le maschere isolate e anche le mascherate di gruppo. Intanto, partendo dalle nuove maschere, hai visto le tante puntate che sono andate in onda, in tanti le hanno viste in televisione. Che ti è sembrato la fine del lavoro, insomma, anche la reazione del pubblico? Avrei avuto anche qualche feedback da alcuni sostenitori? Da diretti interessati principalmente, ha fatto piacere loro, anche perché vista l'età giovane standard, più o meno, vedersi già in televisione protagonisti assoluti di puntate su Rete Versilia, peraltro in una fascia oraria anche importante e interessante dal punto di vista degli ascoltatori, dei telespettatori, non è poco. Non è poco, ho dato tanto onore a questi giovani. Ecco, vedi qua vediamo, eccolo qua, così spieghiamo anche a telespettatori, questa è la sigla che sicuramente avranno già visto, come ricordato, insomma, nel palinsesto è ben presente ormai da praticamente un mese. Per loro sicuramente era un modo per farli sentire già carristi in qualche modo, no? Sì, ho voluto un pochino enfatizzare e valorizzare il loro lavoro. Spesso sono ignoti i loro nomi, i loro volti. In corso magari il pubblico si congratula con loro per le loro piccole opere, per ora soltanto maschere isolate in queste 15 puntate, 15 quanto sono le maschere isolate appunto. E mi chiesero, questo a febbraio, durante carnevale, di voler in qualche maniera sottolineare anche il loro lavoro, i loro nomi, non tanto per mancanza di modestia o superbia varia di questi già giovani artisti, quanto per dar anche loro un minimo di spazio, un minimo di rilevanza e di visibilità a livello mediatico. Allora con Franco Galimberti, autore e regista e montatore di queste puntate, la sigla è di Matteo Bertuccelli. Salutiamo, tra l'altro, Franco. Che salutiamo, Franco e Matteo. La canzone invece è peraltro di un mascheritista isolato che è Daniele Chicca e Alessandro Pasquinucci, dove è felicità, quindi ha tutto a che vedere comunque con questo mondo. Ci siamo incontrati appunto con Franco e da settembre abbiamo girato la bellezza di 15 video interviste nel giro di due giorni. Quindi un lavoro, anche per lui, in primis, ma anche per me, fare 15 scalette in 10 minuti l'un l'altro non è semplice, potrei testimoniarlo. E peraltro ognuna diversa. Vi sono informato sulle maschere isolate e sulle loro opere, quel che avevano fatto, il loro passato, che non è come vedere le regge in maschera, guardi, vedi carri, video, eccetera. È un pochino più complicato perché ci sono meno documentazioni, la ricerca è più d'archivio. Però è divertente, anche perché un giovane, io ho 20 anni, che intervista altri giovani, secondo me è un buon abbinamento. Dà veramente vitalità al carnevale e fa notare, fa vedere che anche sia la parte della cittadella è costrutta da parte anche della stampa, comunque sia il giornalismo, chi si intende, chi scrive, chi comunica di carnevale, la gioventù c'è. Ci sono le nuove leve ovunque. È sicuramente questo progetto ottimo e che ha una finalità nobile, quella di promuovere i più giovani che alle volte, come ricordavo poco fa, rimangono purtroppo non sempre proprio in primissimo piano per lasciare spazio ai più grandi, che ovviamente restano comunque al centro della nostra attenzione. Ricordiamo che le nuove maschere in programmazione da più di un mese su reteversile, lo rimarrà anche perché fa parte ormai del patrimonio carnevalesco televisivo nei mesi, nelle settimane che ci separano dal primo corso mascherato, ma veniamo al secondo progetto, quello a cui mi riferivo poco fa, ovvero sul trono di Burlamacco. Abbiamo già detto di quella che sarà la puntata comunque dedicata a Deglio Tofanelli, però ci sono tutte le altre, quindi tu sei andato a ricercare tutti i presidenti, quella in carica ovviamente, ma soprattutto gli altri, quelli anche dimenticati, perché insomma le generazioni a volte si susseguono e dimenticano i nomi e volti e li hai fatti parlare. Bravo, esattamente. Dai giovani o giovanissimi siamo passati a quelli ai meno giovani, diciamo così, cioè dal carnevale del futuro ho fatto un passo indietro e un po' come i gamberi sono andato appunto indietro alla ricerca, alla storia, alla scoperta, scusami, della storia del carnevale di Areggio. L'obiettivo è questo, io considero sul trono di Burlamacco, e ora spiegherò perché di Burlamacco non direi carnevale, come un libro di storia del carnevale audiovisivo, cioè anziché uno comprarsi e leggersi un libro validissimo di carnevale, cioè ne sono tanti splendidi, io l'ho comprato e mi sono documentato appunto per questo lavoro, uno si guarda le nuove puntate, si risultano di Burlamacco e scopre nel dettaglio, in maniera del tutto originale, perché i presidenti riuniti è la primissima volta in assoluto, una novità assoluta ed esclusiva per Rete Versilia, tutta la storia del carnevale, dal 29 giugno del 60, notte dell'incendio dei baracconi di Vieca Eroli, raccontata da un ospite che era qua qualche tempo fa, Ghigo Gemignani, per arrivare a Mareina Marcucci, attuale presidente, la prima donna a capo del carnevale. Quindi raccontiamo il carnevale del passato, che fu, ma che il carnevale che verrà, è il carnevale del presente stretto, no? Certo. Quindi spassiamo dal 60 con Gemignani, raccontiamo gli anni 80 con Carlo Arrighi e poi gli anni 90 con tutti coloro che sono succeduti, a partire da Baldi, Nocetti, Sodini. Tofanelli, ripeto, era in programmazione e l'intera serie è dedicata a lui, in ogni caso, ora ancora di più e a maggior ragione. Le puntate di Tofanelli sarà speciale andrò in onda a fine gennaio, prima di carnevale, a ridosso del primo corso e chiaramente cercheremo di ricordarlo nel migliore dei modi, soprattutto quello che ha fatto. Lui stesso mi chiese che potesse apparire il meno possibile Elio Tofanelli, ma il più possibile ciò che ha fatto, ma soprattutto ciò che grazie a lui è stato possibile fare, quindi i carri, semplicemente, la carta peste, i colori, il corso, la cittadella. Così sarà fatto, per forza di cose. E poi Santini, Pasquinucci, Pozzoli e la Marcucci. Quindi fino ai giorni nostri, fino ai giorni nostri possiamo dire. Hai comunque ascoltato, a parte Tofanelli ci hai spiegato, tanti presidenti, c'è qualcosa che ti è rimasto in mente, un aneddoto, un racconto, qualche curiosità, anche da personaggi che appartengono più al passato, che oggi non sono più nella politica attiva, che ti hanno raccontato sul carnevale? Federico Gemignani sicuramente è stato, è una delle punte di diamante di questa trasmissione, a parte per l'età illustre, 91 anni, più da Arnaldo Galli, pensa un po', però di una lucidità spaventosa. Mazzolini potrà testimoniarlo quando lo intervisto qua il 4 d'ottobre. Ha ricordato Sargentini, ha ricordato Barzacchi, ma soprattutto ha ricordato ciò che il carnevale era. Mi spiego, Gemignani è stato l'autore vero dei corsi in notturna. Questo non lo sa nessuno. Nascono degli anni 30 sotto il fascismo, ma è Gemignani che negli anni 60, nel 67 per esattezza, li riporta in auge. E lui voleva il corso in notturna, non il corso notturno, infatti aveva molti oppositori già all'epoca, anche dentro il partito, eccetera, insomma lui era democristiano, è democristiano. Ma perché nessuno aveva capito bene le sue intenzioni? Non voleva il corso di notte, voleva il corso illuminato in notturna, per valorizzare i movimenti, lo spettacolo, anche le maschere, che poi si sa, il carnevale d'Arsena, la festa notturna è sicuramente più vivace e anche più liberatoria. Certo, ormai oggi ci sembra normale, no, fare questa operazione. Oggi, infatti la domanda che fece a lui, rivolgendomi riguardo a questo argomento, è stato oggi si parla tanto di carnevale in notturna e di corsi in notturna, ma tu sei stato il vero inventore. E questo sicuramente è una cosa che non si sa. Tanti anedoti verranno fuori da queste puntate. E poi ripeto, scopriamo la storia da chi l'ha fatta, i presidenti. C'è qualcuno che ti ha colpito in maniera maggiore rispetto agli altri, che ti ha sorpreso, che non ti aspettavi qualcosa che ti ha detto, oppure ti aspettavi di persona diversamente da quello che hai sentito dire nei nostri telegiornali, sulla stampa, insomma? Da Alessandro Santini, che ringrazio per la sua disponibilità illuminante, per anche il suo aiuto fondamentale e contributo anche nella ricerca fotografica, lo vorrei sottolineare, non solo lui. Sicuramente ho riscoperto tanto di quel carnevale che ho vissuto un po' da ragazzino, perché comunque sì, Santini è stato in carica dal 2010 fino al 2013, io ero un po' più giovane. Quindi ho scoperto anche tante iniziative, tantissime, veramente una marea, un mare magnum durante il suo triennio, che ho riscoperto e ricordato con molto piacere. Poi, ripeto, Gemignani è un caso limite, lui è veramente qualcosa di eccezionale, ma anche Carlo Arrighi, per esempio, che era un dentista, non avrei mai potuto pensare, potesse in cinque anni, durante anche il periodo di Barzacchi come sindaco, potesse ideare e riuscire a far fare tutto quello che poi è stato fatto in un decennio così splendido, così brillante come agli anni Ottanta. Il paliaccio sul Cavalcavia, per esempio, il paliaccio di Ardando Galli, che per molti anni è stato sul Cavalcavia, come da addobbo, è un'idea di Carlo Arrighi, non si sa questa cosa qua. Sicuramente, guarda, ci hai incuriosito e saremo tutti quanti a vederti, a vedere la prima puntata questa domenica, il primo dell'anno, il primo gennaio, quindi vedremo la trasmissione che poi lancieremo con gli orari nei dettagli anche nel corso del nostro telegiornale in questi giorni. Da chi partiremo? Da Ghigo Gemignani, per l'appunto. Io sono filologo in queste cose, sarà squisitamente cronologica la serie, quindi si parte per l'appunto dal 1960, Gemignani diventa presidente del Comitato, non della fondazione, in quell'anno, e poi si proseguirà mano a mano che la timeline del tempo, il nostro viaggio nel tempo, proseguirà fino all'anno attuale, quindi fino al 2016 con Stefano Pozzoli. E con Marialina Marcucci racconteremo il carnevale che verrà, il 2017. Senti, prima di salutarci, visto che in questi mesi hai avuto un'attività molto molto intensa, stretto contatto con il mondo del carnevale, con la fondazione, con i carristi, con tutto quello che è ruota intorno a questo mondo, non ti sei fatto mancare niente perché hai accompagnato, me lo stavi raccontando poco fa, anche la delegazione della fondazione ai Luca Comics and Games, nella Ponte dei Santi, insomma conoscete bene la manifestazione dei fumetti, e addirittura in Vaticano dal Papa, perché come ricorderete, l'abbiamo mostrato anche proprio grazie alle sue immagini, c'è stato un incontro in Vaticano tra Papa Francesco, i carristi e alcuni esponenti della fondazione. Che esperienza è stata in particolare questa a Roma? Vedere Papa Francesco dal vivo sicuramente è un'esperienza, un'emozione unica, come quando si guarda sempre una figura che di solito attraverso la stampa o la televisione c'è familiare, ma non mai come quando si vede dal vivo, questo è ovvio. Sicuramente l'emozione è stata tanta, bellissima esperienza, simpatica alla compagnia, carnevalesca chiaramente, è stato divertente, è stato bello anche fare immagini, comunque a parte il giornalismo mi occupo anche di, sono anche un videomaker, quindi comunque sia immagini ne faccio, ne produco e ne monto, quindi è stato bello anche da quel punto di vista. Roma poi è la mia seconda città, perché io sono il Pietrasantino, abito a Livorno, però seconda città è Viareggio, ho sbagliato, terza città è Roma. Sono studioso di antichità romane, quindi per me, io sono cultore dell'impero romano, tutto ciò che la romanità classica è stata in qualche maniera, quindi per me ogni viaggio a Roma è sempre un'esperienza unica e emozionante, andato più in un posto artisticamente, architettonicamente, culturalmente così alto come il Vaticano e poi l'incontro col Papa è stato veramente eccezionale. Il Pontefice a domanda diretta lasciò intendere, ma chissà potrei anche venire, non sappiamo se è semplicemente una battuta di circostanza o se veramente sto pensando di venire. Di certo se dovesse venire il Papa sarebbe veramente un grande colpo. Tra Obama e il Papa dovrebbe venire anche Obama, nelle intenzioni qualche settimana fa della Presidente. Si spera nel meglio, conoscenze la Presidente ne ha diverse, specialmente anche in America, o comunque nei piani alti. Speriamo possa essere possibile, sicuramente la sicurezza sarebbe allarmata, blindatissima, quindi non so quanto gioverebbe al Carnevale un ospite così illustre. Ospiti normali potrebbero far sicuramente comodo all'opinione pubblica, insomma anche all'aspetto mediatico del Carnevale. Però ecco, magari il Papa sarebbe forse anche un tantinello eccessivo. Oppure il Carnevale potrebbe tranquillamente accogliere anche una figura religiosa, sicuramente religione o alla quaresima, è il contrario del Carnevale. Questo sarebbe anche un incontro simbolico in qualche maniera, no? Vedremo, stiamo a vedere che succederà. Staremo a vedere, manca poco del resto, insomma dopo il Capodanno e l'Epifenia saremo già praticamente in clima carnevalesco. Noi siamo in chiusura, io ringrazio Tommaso Lucchesi per essere stato con noi, vi ricordo l'appuntamento di questa domenica con la nuova rubrica di Carnevale sul trono di Burlamacco. Grazie per essere stato con noi, è un arrivederci perché tornerai sicuramente a trovarci nelle prossime settimane. Lo spero, grazie Federico. Grazie Tommaso, grazie ai nostri telespettatori. L'informazione torna, come sapete, invece questa sera in diretta a 18.25 con l'edizione serale di TG Versilia. Grazie dell'attenzione e buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.